Buongiorno a tutti, mi chiamo Fulvio Signorelli, abito in provincia di Gorgonzola, in provincia di Milano. Mi trovo qui perché ho avuto grossi problemi ai venti e quindi attraverso internet ho contattato SOS Turismo Dentale. Perché SOS Turismo Dentale? Perché sono le persone con le quali sono riuscito a comunicare i miei problemi in modo chiaro. Mi sono trovato in un ambiente estremamente professionale, tutti i dottori si sono comportati in modo decisamente professionale e anche lo staff è costituito da ragazze gentilissime che ti aiutano a sopportare i mali subiti durante gli interventi. Che dirvi, vi consiglio di venire ad SOS Turismo Dentale anche perché c'è un rapporto qualità-prezzo decisamente conveniente rispetto all'Italia e anche la professionalità è estremamente elevata. Va bene, un sorriso. Prego.